Dopo i due sconfitti iniziali, Cattolica San Giovanni torna a giocare a Calbi dove affronta un'altra delle corazzate di questo girone, il Fiorenzola. Per i giallorossi settimana critica, la sconfitta con l'Agnanese ha lasciato un rammarico enorme e con notevoli svisti arbitrali fatti presenti anche in Lega grazie ai contributi filmati. Poi rimane il paradosso che si continua a giocare questo campionato in maniera falsata, come dichiare il presidente Cervelieri, che non ha nascosto le proprie propresità in quanto per alcune squadre del girone le porte dello stadio rimangono aperte, per altre invece no. Le penalizzazioni in fatto di incassi si sentono eccome, specie in una piazza come Cattolica che vive di calcio e di passione. Sotto una pioggia battente veniamo alla gara. Gli ospiti si rendono da subito pericolosi con questa conclusione fuori misura approvata da stronati. Ancora ospiti sugli scudi con questo dubbio offside chiamato dai padroni di casa. Tornioni si invole indisturbato trovando Piai pronto a chiudere ottimamente lo specchio della porta, non senza recrimini. Florenzolo insiste nel proprio forcing offensivo chiamando Piai al tuffo su questa conclusione insidiosa. Quando non ci sono gli attaccanti che pungono sono questi tiri cross a far correre qualche brivido di troppo alla porta locale. La rosa dall'altra parte risponde non inquadrando lo specchio della porta. Il Cattolica San Giovanni rimane nell'area avversa e questa volta è Gaiola a sfiorare la marcatura. Sull'asse di destra Tornioni continua a fare quello che vuole, suggerimenti in profondità per lui, ma conclusione da dimenticare. Su capovolgimento di fronte, primo tiro in porta dei Cattolica San Giovanni per opera di Sò. Battagliola rispinge sui piedi Garavini che non riesce a dare la potenza giusta al pallone, disturbato dall'opportuno intervento della letto guardia ospite. Cattolica San Giovanni che insiste, qui Sò in acrobazia sbatte contro Battagliola. L'arbitro faccino di aver visto tutto, non sanzionando nell'arco di quattro giorni un nuovo rigore ai Romagnoli. Il repreio a quello di Eugenio Angeli ci mostra l'episodio con l'uscita fuori luogo ad opera delle portiere ospite. Su fili di prima frazione di gioco, Zanni faccino di essersi stirato. Il direttore di gara, proprio su quest'azione, manda le due squadre a riposo. Nella ripresa, Piai la fa grossa, pallone regalato a Orlietto che serve un comodo assist per la corrente Tornioni. Ma all'esterno non incide come vorrebbe. Cattolica San Giovanni, anche sfortunato, Sò centra l'attraverso con questo colpo di testa che fa gridare la gola ai padroni di casa. Su versante opposto, il tiro a botta sicura di esposto, servito da corner, termina alto. Sò, invece, continua ad essere più pericoloso dei suoi, sfiorando la rete. I giallorossi proseguono la loro fase offensiva in velocità gottere. Di refare trova di mezzo Battagliola nella rispinta di piede. Giallorossi scatenati. Sò, numero di attascuoli sul tiro sul secondo palo, batte contro i guantoni di Battagliola che si rifugia in corner. Non finisce qui. Il Cattolica San Giovanni produce un forcing finale inarrestabile. Nell'ordine Battagliola deve rispondere a Garavini con i pugni, sempre a numero 23 con i piedi, ed infine a go, correlativa a rispinta di piede. Sul corner di Guglieri, dall'altra parte, a rotondini di testa, chiama la rispinta di pugno Piai. Le emozioni terminano qui. Un Cattolica San Giovanni penalizzato ancora una volta da un torto arbitrale evidente. La squadra di Lilli produce tantissimo, ma trova sulla propria strada un super Battagliola. Il Fiorenzone si vede soprattutto nel primo tempo, nella ripresa si vede a tratti, ma quando Osa trova sulla propria strada un grande Piai. Una bella partita che non rispecchia assolutamente il risultato finale.